Rettighi chiaramente è il grande atteso, cioè è lì in attacco, lo vedete Rettighi quindi per Elby Lalture in questo secondo tempo. Matteo Rettighi. Ederson alza proprio per Rettighi che si fa rispettare nel gioco aereo ma posizione di offside. Rettighi circondato da avversari, azione più che aria, sta arrivando adesso, Dechetelare, ora Rettighi. Riaccompagna il pallone fuori, Dechetelare, Irvine, Vasili, Valle. Cerca di dare un'accelerata, Kola Ginaz, prende un colpo massivo a Rettighi, al limite, Rettighi con l'idea di calciare. Calcia bene, ha un'unghia dal palo, si presenta Matteo Rettighi. Buono l'anticipo, Rettighi, limite, offre a Dechetelare, Dechetelare, in mezzo per Lukman. Vasili. Lukman, c'è Rettighi. Chiude lui la treccia per far avanzare Ederson, Ederson con l'esterno, per Lukman! Vasili Ederson! Il colpo di testa di Rettighi. Lukman, non c'è più campo. Calcio d'angolo per l'Atalanta. Manzoni. Rettighi. Fa caricare sulla linea interna. Federico Cassa, Federico Cassa in mezzo per Rettighi! E alla fine non trova il gol. Sponna, in area di rigore, è riuscito a girarsi. Corner messo fuori da Rettighi. Finisce qui. L'Atalanta dura solo mezz'ora, poi lentamente sparisce. è stato una velocità di battaglia. Allora, be. Toca. Grazie a tutti.